Per il momento sono stati effettuati una dozzina di tamponi su un gruppo di immigrati originari del Gambia. Il grosso dei test si svolgerà dal pomeriggio alla sera quando gli ospiti del dormitorio di via provinciale San Vito a Brindisi saranno rientrati. Molti di loro infatti lasciano la struttura prima dell'alba per andare a lavorare in campagna e vi fanno rientro al tramonto. Dal mattino di giovedì basso dispiegamento di forze dell'ordine nel dormitorio mentre due sanitari della task force di pronto intervento dell'ASL effettuavano i tamponi. Almeno questa mattina non ci aspettavamo grandi numeri anche se devo dire una dozzina di persone per ora si sono avvicinate e si sono fatte sottoporre al tampone anche perché diciamo la stragrande maggioranza è al lavoro di solito la mattina e quindi ci aspettiamo che poi questo pomeriggio e questa sera ci sia il grosso di coloro che verranno a farsi lo screening. L'amministrazione comunale assicura che al di là dell'emergenza contingente esiste un piano per ridare dignità al dormitorio. Abbiamo un progetto in corso che consideriamo di portare a termine il più breve termine possibile proprio per restituire dignità a questo luogo e ai suoi abitanti. Gli immigrati che dovessero essere trovati positivi saranno trasferiti in quarantena in una struttura già predisposta a Ostuni.